buongiorno ragazzi direttamente da house of biker e oggi presentiamo una delle ultime arrivate quindi non solo super sportive qui all'house of biker ma anche pezzi d'autore made in altri stati in questo caso ovviamente la vedete già tutti bella che inquadrata abbiamo davanti un esemplare old style quindi forse quelle più giuste del mondo Harley Davidson guardate che meraviglia siamo davanti a una splendida ultra classic electra glide anno 1995 carburatori motore 1340 a palla allora l'esemplare che abbiamo qui in sede è veramente qualcosa di stupefacente perché attenzione attenzione guardate qui una particolarità non da poco 6575 chilometri forse è un esemplare più unico che raro per via di questo chilometraggio pazzesca la moto è restata ferma per tanto tempo quindi ha avuto la necessità di una bella messa a punto generale quindi oltre già al chilometraggio reale che vedete il tachimetro che è abbondantemente al di sotto dei 10.000 chilometri quindi già come dicevo prima è una rarità pazzesca ma in realtà in più abbiamo siamo intervenuti nella parte termica quindi abbiamo tutta la parte superiore quindi cilindri pistoni guarnizioni e chi più ne ha più ne metta che è stato rifatto tutto a nuovo quindi in realtà la moto ha necessità di un rodaggio quindi tanta tanta roba spettacolo quindi me la rinquadro un'altra volta i chilometri sono pochissimi un esemplare del genere è veramente spettacolare la moto si presenta veramente molto bene ovviamente qualche piccolo 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 segno di vetusta ma veramente quasi niente vi invito a venirla a vedere perché è veramente qualcosa di spettacolare spettacolare la moto adesso è perfettamente in ordine funzionante al 100% pneumatici nuovi appena montati con la sua bandana bianca spettacolo ancora c'è la sua pattina blu perché bisogna toglierla via però sono nuovi di pacca appena messi quindi la moto è veramente pronta all'uso al cento per cento la consegniamo anche revisionata per due anni quindi ragazzi più di così guardate che spettacolo andiamo a vedere anche qui su un bel baulone turbo le sue velligie laterali veramente qualcosa di meraviglioso meraviglioso quindi penso che ne valga veramente la pena per chi è un po un nostalgico di queste moto americane in vecchio stile quelle che hanno reso grande questo marchio ora sono modelli totalmente differenti ovviamente per via dell'inizio elettronica tante altre cose che la tecnologia il futuro ovviamente non lo si può fermare ma per chi vuole vivere qualcosa veramente alla grandissima direi proprio che ne vale veramente la pena veramente spettacolare una seduta meravigliosa la moto si guida veramente molto bene certo da ferma è un attimino un po impegnativa ma vi garantisco che appena si ingrana la prima e si va in strada è veramente uno spettacolo uno spettacolo ora come sempre visto che poi adesso in descrizione troverete poi il link del sito con tutte le altre informazioni e adesso prima di salutarci proviamo a fare un'accensione a freddo per farvela sentire come va veramente la grande allora partiamo andiamo aprire il rubinetto mettiamo il riservo allora qua c'è sempre da disinserire l'allarme andiamo ad accendere poi si danno le le solite due pompatine andiamo ad aprire l'aria vediamo un po ecco qua abbiamo attaccato un po giù la benza arriviamo eccoci e siamo perfetti eccoci Ragazzi Harley Davidson 1340 Ultra Classic Electra Glide Disponibile qui all'AutoBiker Vi aspettiamo tutti Ciao